Buongiorno, benvenuti alla signora stampa di oggi, sabato 24 novembre. Vi ricordo come sempre che noi abbiamo lunedì Quarta Repubblica, dunque segnatevela sulla rubrica o sul calendario elettronico, lunedì Quarta Repubblica, non dovete mancare. Nel frattempo il Governo tratta con la UE, conviene trattare o non trattare, mi si nota di più se tratto o non tratto. Oggi sui giornali c'è tutto il contrario di tutto. Per Repubblica ci sarebbe un emendamento alla minovra per ridurre, rimodulare i cosiddette pensioni quota 100 e il reddito di cittadinanza. Poi vedi la pagina accanto della stessa Repubblica che ti dice che se si cambia il deficit del 2,4% il Governo salta e loro non hanno nessuna intenzione di far cambiare il reddito del 2,4%. Poi leggi sul Corriere della Sera che il Governo cambia se si cambia il 2,4% ma si potrebbe cambiare, ridurre la crescita del PIL l'anno prossimo. Insomma, sembra di capire che questa cena tra Tria, Juncker e Conte sia stata preparata portando qualche cosa su questa finanziaria ma non si capisce ancora bene che cosa. Buongiorno a Santa Margherita Ligure, i nostri amici da là. Molto bello oggi, devo dire, il pezzo di Minzolini il quale ci spiega che Laura Castelli, e non solo lui, lo fa anche Mattia Feltri oggi sul suo feltrino della stampa, Laura Castelli che era l'addetta alla sicurezza presso lo stadio comunale di Torino, ha spiegato a Paduan, che è stato Ministro dell'Economia dei Governi Gentiloni Renzi, peraltro come lei adesso è sottosegretario, ma è stato anche economista, professore, quello che volete, tutti quei titoloni dell'establishment, quindi Laura Castelli, addetta alla sicurezza presso lo stadio comunale di Torino, spiega a Paduan che l'aumento dello spread non ha ripercussioni sulla famiglia. Si tratta, come è evidente, anche un bambino di quarta elementare, ma non evidentemente alla Castelli, una minchiata, perché l'aumento dei tassi di interesse, per chiunque oggi l'ho provato a scrivere sul giornale, se tu aumenti i tassi di interesse non tanto lo spread, se gli tassi di interesse aumentano e tu c'è un grande debito, è evidente che il costo di questo debito aumenta, lo capisce anche un bambino piccolo, non necessariamente un addetto al stadio comunale di Torino, la Castelli non lo capisce e questo è piuttosto grave, però vedete io non voglio sempre essere un cerchio bottista, ma quando tu leggi i titoli dei giornali oggi su Banca d'Italia che dice che abbiamo bruciato 85 miliardi di patrimonio e di ricchezza degli italiani e quando leggi che questo patrimonio sarebbe stato bruciato tra il 1 gennaio e il 30 giugno del 2018, allora ti chiedi, scusate ma chi governava tra il 1 gennaio e il 30 giugno del 2018? Sì, hanno eletto il 4 marzo, hanno vinto le elezioni questi giallo-verdi, ma soltanto da giugno hanno iniziato a comandare, a guidare, non hanno potuto fare granché tra marzo e giugno e comunque tra gennaio e marzo c'era Gentiloni, allora mi chiedo, lo spread è sicuramente aumentato per colpa di questi sfaccendati alla Castelli che si inventano l'inutilità dello spread e fanno una manovra assistenzialista, ma forse e dunque, penso anche molto, lo spread aumenta perché i tassi di interesse in Europa stanno aumentando visto che la Banca Centrale Europea vuole smettere col quantitative easing. Insomma, un po' di parte. Detto questo, Penati oggi fa un articolo bellissimo sul Sole 24 Ore che vi consiglio perché sta ritornando in auge l'idea geniale sia da parte di Martina del movimento quindi del PD che vuole morire completamente, sia da parte di qualche agenzia di rating di tassare i patrimoni degli italiani. Oggi Penati spiega per quale motivo sarebbe assurdo. Un primo motivo è l'effetto depressivo, cioè se tu tassi i patrimoni si spende di meno, si investe di meno e c'è meno ricchezza in giro perché questa ricchezza sa prendere lo Stato e il beneficio dello Stato cioè la riduzione del debito pubblico in funzione di quella patrimoniale è un beneficio inutile perché dice Penati il problema del debito pubblico e della sua sostenibilità non è il debito in sé ma è il fatto che abbiamo una bassa crescita. Se l'Italia crescesse di più, ovviamente il debito sarebbe un problema inferiore. Una cosa è crescere al 5%, una cosa è crescere allo zero come l'Italia. Se l'Italia cresce a zero e c'è un debito al 130% ovviamente il problema c'è. Chiarissimo e limpidissimo oggi Penati sul Sole 24 Ore. Cambiando argomento e andando sempre sulla politica, il Corriere della Sera oggi fa il sondaggio che vede la Lega al 36,2%, il Movimento 5 Stelle al 27%, male Forza Italia al 7%, male Fratelli d'Italia anch'esso sotto il 4%. Insomma i sondaggi danno una fortissima Lega che si mangia tutto il centro-destra. Direi che anche il Movimento 5 Stelle male, ma non malissimo perché è al 27%. Nel frattempo Di Maio su tutti i giornali ci spiega che sta stampando 6 milioni di nuove tessere per il reddito di cittadinanza, cosa che è un po' in contrasto con quello che dicono i giornali, cioè che verrebbe rimodulato al beneficio europeo questo reddito di cittadinanza e soprattutto in contrasto col fatto, come nota Repubblica in una pagina intera oggi, che quello stamparà pure le tessere del reddito di cittadinanza. Ma intanto non sa come si chiama e poi non si sa l'efficacia, cosa ci deve essere dentro. Il disegno di legge non è stato approvato e collegato alla finanziaria, quindi quello stampa qualche cosa che ancora non sa cosa servirà. Devo dire una roba veramente fantascientifica. Spadafora, nel frattempo l'importante sottosegretario reparto e pari opportunità della Presidenza del Consiglio, non sottovalutare perché chi passa alle pari opportunità ha sempre un grande ruolo politicamente corretto e favoloso all'interno dei governi. Immaginate, non so, la Carfagna, oppure immaginate Spadafora che dice con questi qui prima o poi ci divideremo, sarebbero i leghisti, e comunque non hanno sensibilità sui temi sociali. Insomma, quell'anima diciamo un po' fichiana, da fico e antigovernativa all'interno del governo c'è e oggi l'intervista di Spadafora su Corriere della Sera è tutta da leggere. Nel frattempo Lottieri nota una cosa molto interessante sul giornale, che oggi è molto interessante il giornale di cui faccio il vice direttore, perché ci sono due cose interessanti. Lottieri che va a guardare il decreto sicurezza e nota una cosa straordinaria, perché nel decreto sicurezza sono scomparse, sì c'è forse una maggiore facilità per evitare le occupazioni delle case, ma è evitato ed è stato cancellato l'imborso dello Stato nei confronti delle famiglie che si sono viste occupate le proprie case, quindi mi occupano la casa. Prima era previsto un rimborso per queste famiglie, adesso viene cancellato e il rimborso per queste famiglie veniva, se c'era stata un'inefficienza da parte dello Stato e dunque nei prefetti, nello sgomberare le case, quindi mettevi il pepe sotto ai prefetti. Guardate che se voi non sgomberate c'è un rimborso e questa cosa il decreto sicurezza la cancella. Beh, dice Lottieri, non mi sembra una grande tutela della proprietà privata. Secondo pezzo bellissimo oggi di un'inchiesta del giornale è sulla Torino-Lione, che viene paragonata a un'opera fondamentale, questo lo sappiamo tutti, ma poi ci spiegano per quale diavolo di motivo l'alternativa che è il Frejus, l'alternativa che è il Frejus è come il Ponte Morandi, è la cosa più insicura che ci sia. È fuori legge, tutte le leggi italiane, non c'è le uscite di sicurezza, non c'è la ventilazione giusta, sono stati spesi 108 milioni per metterlo un po' a posto, ma non è a regola normale, a regola europea, a regola italiana, non è assolutamente a regola, quindi noi non facciamo un altro tunnel perché vogliamo tenerci il Frejus, che tra l'altro ci collega alla Francia, insomma non è una cosa di secondo piano, e questo Frejus noi lo coccoliamo come se fosse un'opera straordinaria, mentre è, come dice il giornale, con dati alla mano, il Ponte Morandi del futuro. Riguardo a tutta questa vicenda politica, qualcuno di voi si può chiedere, porro cavolo, oggi sei stato un po' duro, insomma un po' così eccola con il governo di Lega e Movimento 5 Stelle, però credetemi, credetemi, vorrei che voi fosse molto, essere molto chiaro con voi, saluti dalla Turchia, Diego. Allora, chiunque abbia oggi un dubbio su questo governo, e io ne ho 100 milioni di dubbi, chiunque di voi odi questo governo per quello che sta facendo sulla Tav, e io lo odio per quello che sta facendo sulla Tav e le grandi opere, chiunque abbia insopportabile questo governo per il reddito di cittadinanza, e io penso che sia insopportabile per quello che sta facendo sul reddito di cittadinanza, e anche sulle sue strategie confuse con l'Europa, si legga oggi Zagrebeschi sulla Repubblica. Zagrebeschi oggi sulla Repubblica invita l'Italia, senza citare questo governo, che peraltro il governo del cambiamento sembra che lui, quando scriveva sul fatto, un po' lo voleva, questo governo del cambiamento grillo giustizialista, beh, il grillo giustizialista Zagrebeschi oggi sulla Repubblica dice dobbiamo avere resistenza civile contro questo governo dei cattivoni, senza indicarlo così chiaramente. Se voi leggete la presunzione, la saccenza, l'insopportabile capacità di aggiungere aggettivi inutili di Zagrebeschi oggi, e quell'area supponente di una certa sinistra che oggi si trova contro questo governo, beh, insomma, vi viene veramente voglia di dire attenzione, perché restaurare quello che c'era prima sarebbe un disastro. Poi vedete che Renzi va a finire su Discovery sulla 9, a fare il suo programma in prima serata, e come dice oggi Libero, il bullo va a finire nel buco, perché dice che voleva andare a Mediaset, voleva farsi dare 500 mila euro a puntata, e finisce, aveva trattato per 120 mila, Mediaset non se lo prende e va alla 9. Insomma, quando ragionata questo contesto di Zagrebeschi, Renzi che va sulla 9, che voleva andare sul Canale 5, che aveva premuto con Presta per andare al Canale 5 e non ci è riuscito, allora dici, siamo così convinti che questi siano il peggio del peggio? Beh, insomma, a me non piacciono, ma se pensi a quelli ti vengono veramente i brividi. Zagrebeschi, quando voi vi alzate la notte e vi dite oddio Di Maio, oddio la Castelli, oddio Toninelli, pensate a Zagrebeschi, pensate a Zagrebeschi, va bene? Zagrebeschi, pensate un attimo a lui, e altro che incumi, vi svegliate la notte, che siete a rischio suicidio, se pensate a Zagrebeschi. Che altro c'ho sui giornali? La Torino-Lione, ecco, le ultime due cose sono, una dei giornalisti e l'altra dei giornalisti, sempre. I giornalisti dei grandi giornali, compresi noi, ma sopra, Oh, Giorgio, si è arrivato tardi questa mattina. Allora, i grandi giornali, buongiorno Alessandro, ragionamento corretto, Walter Civetta, Porro mi fa i complimenti, grazie, Zagrebeschi non è al governo, dice Marisa, e io non ce lo voglio al governo, nei prossimi 200 anni. Critica e fai bene la Lega, sono leghista dal 1989. Bene, comunque la mia critica nei confronti della Lega è molto più delicata, diciamo, rispetto a quella del Movimento 5 Stelle. Voglio andare avanti su due questioni. Vi ricordate i giornali, poche settimane fa, i giornali che non dicono le balle, che sono contro le fake news, che vogliono difendere la libertà dei giornalisti, che tutelano le persone, che sono sempre dalla parte giusta, che non sono come la rete, che non spandono merda a tutti quanti. Vi ricordate questi giornali, quelli che fanno le battaglie contro i movimenti, contro i governi, che fanno le fake news contro Trump, contro i troll, contro internet? Bene, qualche settimana fa trovano delle osse in un'annunziatura del Vaticano e dicono le ossa di Emanuela Orlandi. Non sapevano nulla, erano state soltanto trovate delle ossa e loro subito dicono che hanno a che fare qualcosa su Emanuela Orlandi. Voglio difendere io il Vaticano? No. La questione di Emanuela Orlandi mi interessa? No. Ma chiunque che non sia un troll della rete, uno di quelli che scrive su Twitter così come gli viene, ci avrebbe pensato cento anni prima di scrivere trovata le osse sono di Emanuela Orlandi. Non i giornalisti che hanno scritto sono le osse di Emanuela Orlandi. Oggi, sui giornali, si scopre che la notizia di ieri è una non notizia, perché quelle ossa erano precedenti al 64 ed erano di un uomo. Allora, come la mettiamo cari giornali? Qui non avete messo un mostro in prima pagina se non forse aver creato un mostro che però si può atticcare perché chi se ne frega del Vaticano? Il mostro è il Vaticano ha ucciso Emanuela Orlandi e ha nascosto le ossa di questa ragazza all'interno del Vaticano o comunque di una zona del Vaticano. Questa è l'equazione che abbiamo letto l'altro giorno sui giornali. Oggi l'abbiamo smentita, ma l'altro giorno, senza alcuna prova, tutti i giornali hanno fatto un 2 più 2, 5. È una roba che mi fa venire il sangue al cervello per la nostra superficialità e poi rompiamo le balle a Facebook, alla rete, a Internet, ai Twitter, ai leoni da tastiera. E voi che siete che state nei giornali? Che avete fatto 2 più 2? Emanuela Orlandi? Ossero Emanuela Orlandi? Ma qualcuno col cervello non ci ha ragionato? Non ha aspettato? No, nessuno. Siete come la rete, né più né meno. Poi dopo ti vai a leggere Serra che oggi risponde alla Cattaneo che si era permessa di dire da scienziata che l'agricoltura biologica è a molti limiti e Serra dice no, non è vero, stai sbagliando. Allora io mi chiedo e vi chiedo, se Serra, che nella vita ha fatto il giornalista e non più di quello, come me, cioè uno che sa poco di tutto e non sa niente bene delle cose fondamentali, chiaro, discute con una scienziata e dice che lui ha ragione e la scienziata no, allora quando è Serra uno vale uno, è possibile. Quando è qualcun altro, no. Se la Castelli dice a Padoan che lui non ha ragione sullo spread, tutti i giornali gli insultano giustamente la Bibitara e gli dicono ma tu come fai a competere con un economista e invece Serra può competere con una scienziata e sul giornale la sputtana dicendo ma che ne vuoi sapere tu degli OGM o dell'agricoltura biologica? Io ecco Cristian Serra che critica la Catania ok, su quali basi? Sulle basi che lui contesta gli studi della Catania o il lavoro della Catania cioè Serra ne sa più della Catania sull'agricoltura biologica. Come on, uno vale uno. Questo se sono i grillini non vale, se sono i giornalisti di Repubblica invece vale. Bene, come andrà a finire con il Global Compact? Andrà a finire male Anna perché il Global Compact è tutte quelle regole europee che ci obbligano a stare in parametri che questo governo ma anche gli altri non vogliono rispettare. vi do appuntamento come sempre a domani con la zuppa Porro, se continui a pensare le banche non si va da nessuna parte alle banche. Che pensiamo alle banche? Se le banche non aiutano l'economia e non gestiscono i nostri risparmi siamo morti. Che pensate? Che le banche siano oggi banche intese se è il problema dell'Italia? Unicredito se è il problema dell'Italia? Direi esattamente il contrario. Sono quelli che comprano i titoli pubblici che voi italiani non comprate e io per niente compro e quelli che cercano di finanziare le imprese. Queste sono le grandi banche in Italia. Per fortuna che ce ne abbiamo ancora due o tre. Bene, vi do un saluto e vi do appuntamento a domani con la zuppa di Porro e sul sito Nicola Porro per tutto quello che riguarda la giornata. Ciao, ciao Laura, ciao Daniela.